un metodo profumo su puzza che i primi 5 minuti funzionava dopo sembravi una lontra che si era cagata addosso e non via morare infatti in macchina qualcuno di noi scorreggiava per fare più bella figura questo accadeva e lui in questo stato tu eri così un pokemon giallo stotto i paffi disegnati con il pedalello tra un profumo e un altro un pelo e tu coltivavi un concime e lei invece no lei stava di fronte a te ma era diversa a 15 anni lei era già sviluppata femminile, lei era già donna lei diciamo, era già un puttanone a livello internazionale che non ha certo un tempo da perdere con te che sembravi un Picasso con la diarrea allora, e come tu io lo dicevi io lo dicevo, un coglione e se non ti fidanzi con me dai, non ti fidanzi con me scusa, ma tu